ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a sfrucugliare oggi è il seiko marine master nel 99 2000 uscì la prima versione del marine master 44 mm vetro hardlex impermeabilità a 300 e tra l'altro era diciamo resistente alle infiltrazioni di elio senza avere la valvola a discarico diciamo che era un po il punto di riferimento dei divers seiko di quel periodo e da lì in poi è stato sviluppato in differenti configurazioni colori e varie tipologie oggi nel settembre ottobre del 2023 esce il nuovo marine master che però non ha nulla a che vedere con quelli del passato si presenta con una cassa più compatta più elegante più sottile più leziosa diciamo praticamente è una cassa che si rifà in realtà al 62 mass alle tipologie di orologi che ho anche già recensito io e che vedono la cassa completamente differente diciamo che il 62 mass come cassa c'è un po più spigolosa qua ci sono dei biselli lucidi veramente accattivanti che lo differenziano un pochino da quello stile che però è quello si tratta di guardi la fotografia e dici ma questo qua è un edizione del 62 mass ed è questo che è un punto un po controverso che poi andremo ad impanare si presenta in tre colorazioni nero celeste e bianco anche con le ghiere differenti colorazioni e sono tutti a catalogo tranne quello bianco che è un'edizione limitata di mille esemplari gli altri li trovate tutti tranquillamente a catalogo l'ho scelto perché appena l'ho visto ho detto ma è un'altra riedizione del 62 mass no fammelo un po vedere perché mi piace quella tipo quella tipologia di orologio lì di secoli e poi ho scoperto che è marimaster sul quadrante c'è scritto marimaster quindi ho deciso di prenderlo portarlo a casa perché mi piace è veramente fatto bene vedrete che è un bello orologio chiaramente mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale e concessionaria del marchio secco quindi lo trovate telefonate vi fanno anche un prezzo abbastanza speciale diciamo così a buon intenditore poche parole però ora prima di guardare l'orologio nel suo intimo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo smargiasso rolex digest 41 che poi 41 non è 39 mm rotti acciaio e oro con il suo bracciale jubilee che tanto mi piace al polso proprio perché al polso questo orologio qua spicca ecco cioè si vede quando l'oro è vero è oro si vede che è oro quando placcato pvd no non mi dicono niente cioè secondo me il colore del materiale deve rispettare quello che vedi no se vedi giallo deve essere oro se vedi il colore acciaio deve essere acciaio poi anch'io mi sto avvicinando i pvd neri no un po con punta di piedi magari uno ogni tanto ci può stare però secondo me in linea di massimo in linea di principio il colore che vedi deve rispettare il materiale che c'è sotto è così adesso giriamo la camera diamo un'occhiatella a questo bel seico marine master e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali rock diamo uno sguardo ai risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 39.5 mm spessore 12.4 ingombro trasversale al polso 46.8 e interasse ansa da 20 mm orologio che quindi appare ben compatto ed indossabile facendo la felicità di molti degli appassionati che stanno guardando sia colore quali presentano un polso contenuto sia chi come me ha un polso ben dimensionato personalmente riesco ad indossare anche diver dal diametro maggiore ma devo dire che una simile compattezza piace anche a me l'importante è non andare troppo sotto tra l'altro occorre dire che 39.5 mm sono stati presi alla ghiera che risulta leggermente sporgente la cassa vera e propria è ancora più piccola anche se di poco non è comunque un effetto vistoso in quanto la ghiera stessa ha un profilo inclinato che rastrema verso l'esterno l'idea che ci restituisce è quella di un orologio senza sbalzi a differenza di come appaiono brightling super ocean o irado captain cook per intenderci infatti rispetto al vetro abbiamo una prima inclinazione dell'inserto nero e poi una seconda ulteriore e più accentuata inclinazione della parte in metallo zigrinato molto piacevole a vedersi e ottimamente funzionale alla rotazione rimango sempre stupito di quanto lisce ruotino le ghiere dei seiko pare quasi un sistema tutto suo e differente dagli altri rotazione liscia nel senso di omogenea sono ovviamente presenti 120 scatti e il blocco unidirezionale per quanto riguarda invece il design globale della cassa ci troviamo di fronte ad una reinterpretazione dello stile 62 mass nulla a che vedere con i vari marine master visti finora e qui viene da pensare ad un cambiamento radicale di seiko una scelta ben precisa che porta a moltiplicare le riedizioni di quella cassa ho recensito in passato altri orologi in quello stile ma devo dire che le finiture di questo marine master sono nettamente le migliori le migliori che io abbia mai visto su un seiko diver spigoli nitidi e ben delineati spazzolatura laterale finemente realizzata e quel bisello asimmetrico lucidato a specchio che la separa dal dorso delle anse anche esso satinato a dovere spero di non sembrare troppo lezioso e che dalle immagini si riesca a capire la bontà delle lavorazioni molto particolare è poi la chiusura delle anse che forma un arco sul quale si vanno ad affogare i finali del bracciale potrebbe sembrare poco armonioso ma il fatto che quella superficie sia lucidata a specchio crea un gioco di luci che fa il paio con il bisello lungo la carour un'altra differenza rispetto ai classici marine master è il posizionamento della corona che qui troviamo a 2 e 3 e senza spallette di protezione scelta che ricalca appunto quella dello stile 62 mass occorre dire che anche l'impermeabilità dichiarata cambia si passa dai 300 ai 200 metri chiaramente sempre supportati da corona e fondello a vite quest'ultimo mi ha sorpreso non poco è la prima volta che mi trovo di fronte ad un diver seiko di alta gamma con fondello trasparente mi spiace non vedere quella bella chiusura in acciaio pieno a cui eravamo abituati con il basso rilievo dell'onda di kanegawa in bella mostra ma tant'è occorre far buon viso a cattivo gioco perlomeno stiamo parlando di un vetro zaffero esattamente come il trasparente superiore è sicuramente una scelta volta a mettere in mostra il meccanismo interno che è di livello superiore al solito ma se vuoi far ciò perché mi metti la stampa dell'onda lì in bella mostra al centro questo è un dettaglio che non apprezzo e che ritengo superfluo comunque andiamo oltre vediamo di parlare del calibro il 6l 37 movimento che deriva dal 6l 35 ma le cui differenze non ci è dato sapere seiko si limita a dire che grazie alle modifiche apportate alla costruzione e ai materiali risulta maggiormente resistente agli urti una linea pensata appositamente per i diver della serie prospects chiaramente non è a disposizione di terzi le incassano solamente gli orologi seiko tra i dati forniti dalla casa abbiamo lo scarto giornaliero massimo che va dai più 15 ai meno 10 secondi numeri che di per sé sono decenti ma occorre rimarcare che seiko rimane piuttosto conservativa dichiarando sempre scarti abbondanti rispetto alle reali performance dei calibri ritengo quindi che le possono essere in maniera significativa migliori ma torniamo al lato a e focalizziamoci sull'aspetto generale un orologio che nonostante sia presente il datario fa della simmetria un elemento decisivo sì perché la finestra data è rotonda cosa insolita è piazzata tra ore 4 e ore 5 con sfondo nero praticamente è quasi invisibile e mi domando quale possa essere la sua utilità mi pare di aver capito che i nuovi standard per la certificazione diver prevedano la presenza dell'indice ad ore 3 ben visibile non interrotto e questa potrebbe essere la spiegazione tecnica dello spostamento della finestra ma a quel punto avrei preferito un quadrante inodata tanto è leggibile e questo è certamente un diver certificato lo si evince dalla scritta divers con l'apostrofo che campeggia fiere ad ore 6 stampata così come sono stampate le altre su di un quadrante nero opaco lavorato a fessure orizzontali solchi non uniformi in larghezza e profondità ma equidistanti tra loro va da sé che si tratta di una finitura che aumenta la percezione di profondità senza però interferire con l'ottima leggibilità globale del dial indici rettangolari con cornice metallica lucida sfere anch'esse rettangolari e lancetta secondi con un piccolo marker alle estremità tutti ricoperti del pigmento proprietario di casa seiko quel lumibright che agevole il contrasto diurno e che poi al buio svolge perfettamente il suo compito di renderlo usufruibile non sanno certo io a scoprire l'efficienza della luminescenza dei seiko da sempre risulta essere un punto di forza ed anche in questo caso si conferma efficace da notare anche il dot sulla ghiera che funge da riferimento per i tempi di immersione è bene incassato nell'inserto in modo da non esporsi ad urti accidentali tra l'altro si tratta di un inserto in acciaio cosa che ho dovuto verificare tramite un approfondimento a parte appare talmente lucida che ho avuto il dubbio fosse in ceramica ma così non è non resta che parlare del bracciale che in questo caso è veramente uno dei punti di forza del design generale grazie a quei due segmenti lucidi centrali che vanno a riprendere le varie superfici lucide presenti sulla cassa lasciando ai segmenti di superficie maggiore il compito di apparire opachi e spazzolati nel suo insieme essendo alquanto segmentato risulta flessibile e fluido caratteristiche che lo fanno aderire comodamente al polso quasi si trattasse di un giubile qualsiasi di buona fattura anche la clasp e la cerniera interna ben dimensionati e ben rifiniti è presente anche la prolunga per indossarlo esternamente sugli indumenti e qui come al solito non è all'altezza sia per la scomodità di sganciamento che per la qualità della piccola cerniera sottile e apparentemente poco resistente già che siamo sui punti deboli direi che i due fori di regolazione rapida sono pochi non sono sufficienti a coprire tutte le possibili misure di cui si ha bisogna possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali un altro punto debole che magari non ho detto ma che è un punto debole è che ci sono i pin a tenere le maglie congiunte nel bracciale noi pin a pressione però gli altri punti deboli che ci sono sono tutti quasi tutti nel bracciale praticamente questa prolunga per la muta che io sinceramente non è la prima volta che la vedo ogni secco di livello che mi capita c'è questo sistema di allungamento di prolunga che è incomprensibile veramente faticoso da attivare da aprire e poi dentro c'è una cernierina abbastanza sottile non so quanti di voi utilizzeranno la prolunga probabilmente rimarrà per tutta la vita chiuso così però va detto cioè si può fare meglio non capisco perché questo sistema veramente veramente complicato per aprire mi dà fastidio questa cosa poi ci sono i due forellini di regolazione questi sono pochi va bene che le maglie sono piccole abbastanza piccole e si può giocare su quello ma io non posso ogni volta che cambia la stagione giocare sulle maglie avrei bisogno di più forellini sulla clasp per regolarmelo più o meno lungo poi detto questo altri punti deboli sono magari sul quadrante il datario è questo piace e non piace alle persone è abbastanza divisivo qua è alle ore 4 e 30 è per me è invisibile io in questo momento se voi mi chiedeste ma cosa 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 c'è nel che giorno è no non lo so non te lo so dire perché un po la mia vista un po che piccolo praticamente questo qua per me è un orologio nodato eccolo qua così un altro punto che è un po controverso è l'inserto ghiera che è lucidissimo io ho detto ma questo qua è ceramica no è in acciaio quindi in acciaio lucido quanto dura non lo so questo è un punto interrogativo dici la ceramica è leziosa no è per fighetti è lucida però tanto non si graffia questo probabilmente con l'utilizzo potrebbe graffiarsi ora ora che l'ho denigrato che l'ho distrutto praticamente passiamo ai punti positivi tutto il resto punti positivi buon calibro di livello superiore finiture come io raramente ho visto su di un seiko diver per lì ho pensato questo è il seiko che mi è capitato per le mani poi ho pensato che c'è il king seiko che anche quello è fatto veramente con delle finiture da lasciare senza fiato quindi cambio e dico è il miglior diver seiko che ho avuto per le mani a livello di finiture è proprio satinature lucidature veramente un bello orologio fatto bene come si deve aspetto la cassa delle 62 mass ecco questo poi è un altro punto debole che però è a livello concettuale qua sicuramente gli appassionati di seiko si possono sbizzarrire si divideranno cosa che non mi riguarda perché per me un orologio se mi piace lo prendo nonostante ci possano essere delle controversie concettuali cioè è giusto chiamare marine master un orologio che in realtà ha la cassa di un 62 mass cioè è giusto non rispettare più quelle specifiche del marine master che lo hanno reso famoso la cassa fatta in quel modo la corona ad ore 4 questo per me non per me non è un problema per molti appassionati di seiko lo sarà e qui si apre un dibattito a poi c'è anche il fondello ai ragazzi fondello trasparente sì e no cioè mi fa vedere questo bel calibrino però i fondelli chiusi di seiko sono i più belli di tutti i massicci con quella onda di cane gawa lì che in rilievo che ti dice questo qua lo usi per fare le immersioni e zitto no qua invece lo puoi anche guardare lo puoi anche ammirare e ammiriamolo comunque è un orologio che consiglio a chi può spendere perché vale veramente la pena è veramente fatto bene boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua per aver guardato il video tutto nella sua interezza spero vi sia piaciuto l'orologio il video il presentatore e il contesto nel quale è stato presentato non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love non mi resta